In questo video, oltre a fare un aggiornamento su Flamingo, voglio anche fare vedere una cosa molto interessante, ossia uno scambio cross-chain, utilizzando un exchange decentralizzato, in questo caso l'exchange decentralizzato su NIO, per poter fare uno scambio, sempre in maniera decentralizzata, quindi con un wallet non custodial, su un'altra blockchain. In pratica, dai Flamingo ottenuti dallo Yield Farming su questo exchange, riuscirò a cambiare prima in NIO e poi in NIO in Ether, passando sempre da una blockchain all'altra in modo decentralizzato, ossia non andando mai a depositare un quantitativo su un exchange centralizzato, sempre utilizzando il mio hardware wallet in questo caso, comunque il mio wallet non custodial, io sto interfacciando il tutto con un hardware wallet, con un Ledger Nano S. Come faccio? Allora, andando su Volt, questo è lo stato del mio portafoglio, in quanto si è interfacciata l'applicazione decentralizzata al mio portafoglio O3, a questo ho collegato il mio Ledger. Ho una coppia di liquidità fornita a questo exchange, la coppia è Flamingo, token nativo di questo exchange, NIO. Questa coppia riconosce, ancora oggi, a distanza di diversi mesi, il 77.3% all'anno e direi proprio che non è poco, questo da Yield Farming. Ovviamente i primi giorni le percentuali, lo ricordiamo, erano altissime ma tuttora si sono mantenute a un buon livello. La coppia ha avuto pochissima in permanent loss perché effettivamente non si sono distanziate, non c'è stata troppa divergenza tra il prezzo di Flamingo e il prezzo di NIO, che sono andati a salire e scendere praticamente a braccetto, quindi è la situazione ottimale per avere un pool di liquidità. E infatti la liquidità continua a distribuire bene e ogni tanto vado a fare il claim di quello che si accumula. In questo caso voglio fare l'esempio, ho accumulato 1571 Flamingo, vado a effettuare il claim, quindi prima operazione, in questo caso dovrò firmare la transazione con NIO, con il portafoglio O3, con il Ledger, aprendo l'applicazione su NIO. Faccio il claim, firmo, mi chiederà la convalida su Ledger. Ed ecco qui, transazione completata, ho ottenuto i miei Flamingo, li vado a vedere qui in alto. A questo punto voglio scambiare questi Flamingo con degli Ether, come posso fare? Innanzitutto devo scambiarli per l'equivalente wrappato di Ether all'interno di Flamingo. Quindi vado su Swap, cioè lo scambio, seleziono i Flamingo, seleziono PN Wrapped Ether, che è l'equivalente di Ether qui su Flamingo, seleziono il massimo che voglio scambiare e andrò ad ottenere 0.578 PNWHTH. Ancora una volta si aprirà il mio wallet, firmo la transazione sempre tramite Ledger Nano S, quindi anche qui sto facendo uno scambio tra token, perché sono due token, sulla rete NIO, in maniera del tutto decentralizzata, utilizzando un wallet non custodial, quindi senza avere nessun rischio di deposito centralizzato. In questo caso un po' di tempo che aspetto, solitamente capita che non si aggiorni l'interfaccia, non so per quale motivo, ma poi quando vado effettivamente a ricaricare l'operazione è già avvenuta, tanto l'importante è la firma della transazione. Quindi andrò a chiudere, voglio vedere effettivamente se l'operazione facendo refresh sulla pagina è avvenuta già. Questo di tanto in tanto capita, quindi di non preoccuparsi. Qui adesso devo rifare il login sul wallet, cioè interfacciare in nuovo il wallet. In effetti ho i miei PNWHTH e ho 0FLM, quindi l'operazione comunque era già stata eseguita. Bene, a questo punto io ho l'equivalente tokenizzato di Ether su un'altra blockchain. Quello che devo fare è il contrario di quando andiamo a wrappare una certa moneta di un'altra blockchain o un token di un'altra blockchain su questa. Quindi utilizziamo il wrapper, ma questa volta dobbiamo fare l'unwrapping, quindi al contrario. Selezionerò il token PNWHTH e lo manderò su una destinazione. Questa destinazione questa volta sarà quella con la quale si interfaccia praticamente il nostro metamask. Infatti andando a fare un unwrapping, noi dobbiamo avere sia il wallet NEO connesso e aperto, sia l'interfaccia metamask aperta, dobbiamo aver fatto il login e connessa a questo. Cosicché da una parte andiamo a firmare con il wallet di NEO la parte di unwrapping, dall'altra abbiamo l'indirizzo di destinazione sulla blockchain Ethereum. Ovviamente basterà connettere il ledger con metamask, selezionare appunto l'indirizzo che ci interessa e andare ad operare. Selezionando appunto l'indirizzo di destinazione che desideriamo. A questo punto l'operazione è semplicissima, basta selezionare il quantitativo da convertire o unwrappare all'italiana da un token su blockchain NEO a un token su blockchain Ethereum, che sarà un Wrapped Ether e andiamo a fare Next. La prima operazione che ci richiede sarà una conferma sul wallet NEO. Quindi siamo pronti sul nostro ledger ad aprire di nuovo l'applicazione NEO. Confermiamo sul ledger e vediamo che la prima fase di questo unwrapping avviene su blockchain NEO. Il cuore di tutto è questo Poly Network, che fa da tramite, in una sorta di appunto scambio cross-chain e interoperabile tra blockchain, e metterà in comunicazione la blockchain di NEO con la blockchain di Ethereum. Ecco, è partita la seconda fase, quella della Poly Network, che vi consiglio comunque di vedere e di andare a studiare, perché è molto interessante, funziona anche tramite oracoli decentralizzati, è un sistema veramente strutturato in modo interessante. In questa fase non dobbiamo fare nulla, è un'infrastruttura che opera in modo automatico. Operazione eseguita, adesso l'ultima fase è quella di inviare il token unwrappato a Ether, sull'indirizzo Ethereum. Mandiamo sull'indirizzo Ethereum, ovviamente usciamo dal nostro ledger, dall'app NEO, ed entriamo nel wallet Ethereum, perché dobbiamo firmare una transazione su Ethereum. Adesso si aprirà Metamask. Paghiamo quelle che sono le solide gas fee, alzo adesso un pochino la gas fee per rendere l'operazione più veloce. firmo la transazione su ledger. Adesso questa parte la possiamo seguire anche su Etherscan, in quanto è una transazione normale appunto su blockchain Ethereum. Perfetto, su Etherscan l'operazione me la dà già eseguita, quindi i normalized wrapped ether al momento si trovano sul mio wallet Ethereum. A questo punto possiamo andare tranquillamente a controllare su quello che è il nostro wallet, oppure andare anche su Uniswap, quindi un altro exchange decentralizzato questa volta, che si basa unicamente su Ethereum. Ed andando a controllare, qui nel mio wallet che è sempre lo stesso, quello che ho interfacciato con Metamask, poc'anzi, ho i miei normalized wrapped ether qui su Metamask e su Uniswap, quindi. Li posso andare a selezionare, questi posso scambiarli con qualsiasi altro token adesso su Uniswap, se vuoi fare altre operazioni, o comunque andare a fare una sorta di unwrapping anche qui e farli diventare ether. Perché questo è un token, sempre la solita differenza, questo è un token, mentre invece ether è la moneta della blockchain, sono due cose diverse. Vedete che c'è un po' di differenza tra i due, normalized wrapped ether come token valgono un po' meno rispetto agli ether come moneta. E qui ci sarà il solito swap, bisogna anche qui andare a fare un'operazione, pagare il gas come sempre. Adesso immaginiamo che queste fee potranno diminuire nel tempo, quindi i scambi invece che essere due dollari a scambio dovrebbero andare a diminuire. Su NIO i costi sono minimi, addirittura se vogliamo nulli. Ma con questa ottica di interoperabilità si potranno utilizzare blockchain meno costose e poi interfacciarle su quello che è Ethereum. Questo è veramente il futuro di questo settore e della DeFi, della finanza decentralizzata. Ecco qui lo swap è avvenuto. A questo punto io trovo, invece che i wrapped ether, nel mio wallet Metamask ho convertito e l'equivalente si è sommato a mia ether. Quindi, ricapitolando che cosa ho fatto, da Flamingo, Flamingo Finance, un exchange decentralizzato legato a NIO, ho messo come coppia di liquidità per lo scambio la coppia Flamingo-NIO. Quindi, depositando un po' di Flamingo e un po' di NIO. E qui vi rimando a video passati, in cui facevo dei video tutorial per spiegare questa cosa. Una volta messi, qui ci dice in staking, diciamo, ma è una liquidity pool, questi generano uno yield farming. Si ha uno yield farming, quindi si generano alcuni FLM che si accumulano nel tempo. Si accumulano e ci si può fare il claim. Quando facciamo il claim, dal nostro wallet, possiamo poi fare uno swap, ossia uno scambio, che poi è la stessa operazione che avviene appunto su Uniswap, tra token Flamingo e token wrappati ethereum sulla blockchain di NIO. A quel punto abbiamo scambiato per questo token che rappresenta ethereum sulla blockchain di NIO e lo andiamo a fare, a convertire praticamente, lo andiamo a convertire in un token che rappresenta ethereum, ether, ma sulla blockchain di ethereum. Una volta fatto questo, possiamo poi scegliere su Uniswap di convertire quel token in ether stesso. Quindi ci sono diversi passaggi, tutti questi ve li ho fatti vedere, ve li lascio, si possono rivedere pian piano appunto, ma la dimostrazione è quella di aver trasformato, ovviamente, dei flamingo token farmati alla bellezza del 77.03% all'anno, percentuale che era anche più alta in passato, comunque sta durando alcuni mesi ormai, in ether. Ether spendibili in qualsiasi modo. Questo senza KYC, senza exchange centralizzati, senza dover depositare i nostri beni, i nostri asset, le nostre monete da qualche parte, con il rischio di perderle, il tutto avendo praticamente la custodia delle nostre chiavi private direttamente su un hardware wallet. Questa cosa a me piace davvero, davvero tanto e volevo condividerla in questa specie di tutorial che è un caso studio, diciamo, esplicativo di cosa vuol dire uno scambio cross-chain e interoperabilità da due blockchain differenti.